Che spettacolo! San Salvo Marina, Abruzzo, costa dei Tarbocchi. Spettacolo, sì. Eh sì, si vede che la gente è in ferie, c'è gente, c'è gente. Del resto siamo al 6 di agosto, non potrebbe essere diversamente. Bello! Tratti di spiaggia libera, che io adoro. Eh sì, c'è gente. Porticciolo, lì in fondo, la ruota. Ciao. Ciao.